musica 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 errico proviamo la messa bravo proviamo la messa poi si tutto calo si vuole invece delle luci va si dun tu prendi qua la cosa che testi sono queste qua senti come sono innamigate ah 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 stese batterie argentine verticale numero ah pronto marco si muoviti ho bisogno di te un per piacere dai si 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 cosa stai facendo marco eh si sto sistemando l'archivio parrocchiale non mi importa niente dai muoviti veloce dal bisogno di te arrivo ciao 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 Dov'è Marco? Marco! Eccomi padre! Marco! Dove sei? Sono qua! Marco! Marco aiutami! Arrivo Don Antonio! Dove sei cacciato? No! Arrivo! Marco! Dove sei cacciato? Arrivo! Marco! Guarda ma c'è! Mi sta incastrando di tutto! Il buco della testa! Romano! Mi scusi! Mi scusi! Ma c'è assicura Anna! Devo... I vestiti! E' il gallo un bottone in più! Ma... E' l'ora! Quello devo fare? Ma prendo i vestiti nuovi! Sono dell'armadio! Prendi le chiavi! Pichi! Vabbè Marco! Come al solito noi siamo pronti! Grazie per l'aiuto eh! Sono anche un pennello! Ah! Dai! Vabbè! Sei qui! Ah! Grandi cose ha fatto il Signore per noi! Ha fatto germogliare i fiori fra le osce! Grandi cose ha fatto il Signore per noi! Grazie a tutti